buongiorno 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 pomeriggio di fuoco direzione 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 mi stretta andiamo a raggiungere dei ragazzi e passiamo un sabato pomeriggio diverso a few moments later no no un cazzo per contorno Cosa è un velo? Cosa è un velo? A un nuovo comporto Oggi mi stretta Voi collegato? Uconnect questo qua Vai 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 Non è il Citro Il Citro è brutto Va in culo Un telenabbie Ciao 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 Cosa? 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 No Hai rotto il cazzo Ma perché sei sempre rotato? Una volta Tu lavori Tu lavori Tu lavori Con questa faccia Mio lavori Tu sei sempre serenamente in ritardo Io non sono in ritardo Tu sei in ritardo? Ti aspettando a qua Ti è arrivato il Citro? Sì Quando ti è arrivato? Sì Stamani Alle 6.43 Tu vuoi questa benzina? Già Inche io non ancora Lei sei un coglione Povera Andiamo davanti Possiamo andare Battemo Melo Vai Battemo Vai Melo Battere i cavalli Melo Sì 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 Mi è piaciuto io Mi scrocchio tutto Non sei fiera Perché Questo Buon salve E allora? Com'è? Andiamo a vedere i nostri soldi Ci appezzi cento? Madonna Allora Ti apposto? No Ti apposto Ci sei il braciole Ci sei il braciole Ci sei il braciole in tua griglia Oh I braciole Uè uè Com'è? Ti apposto Finalmente ci vediamo Ah Guarda Buonasera Tutto bene Tutto bene Morto Inghialoso per punto Melo sei stanco? Sì Melo Minchia tomaso A questo vuoi Mi upseto Oh 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 La cosa è quella del quadro Come si chiama il quadro? Bancool Che abbiamo qua? Che abbiamo Che abbiamo Ok, con le ari Ora andiamo in direzione Siamo senza meta Andiamo Vuoi due caramelle? Non mi stai mangiando più Non si dico come è Non si dico come è Non si dico come è Finito per fare le moti Una tovole E che dire? Dice il numero uno Ahahahahah E che dire? Dice il numero uno Ahahahahah Cosa E' E' Il bambino Ma facevamo pewno Benissimo Tu si, io non ho, io usaccio che il rullava, tu no però Io ci ha messo la 410 cristalle, compadre Io non mi fa come funziona un motore Lo sai quella cosa bella? Dimi, frate L'impianta a gas, un po' levo il gas, non ve lo dico Nice Porco di c***a Ma neanche non possiamo andare in ghiera, vado Qua, quattro, vado In ghiera? No, vado in ghiera Proceda ancora il nostro viaggio Beh no, siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Non sappiamo dove stiamo andando, ma siamo vivi Comunque dai, 200 km Vado, io ancora siamo un c***o Aspetta, accendiamo la luce, così ti vedo Oh, stavolta la luce Dobbiamo fare soprattutto a rifornimento, penso Le patatine? Per voi No, grazie Guarda, di che? Che fai a dieta, oh Un chilo Un chilo Che fai? Siamo arrivati a rifornimento, finalmente Ma tu non ne fai gasolio, come ti ho combinato? La mia elettrica Te li fai 5 euro? Sì, 5 euro Due Due Ma il favore a accendere il passo Vedo Non so che non è chiuso Ma che era? Chiusura Nani Cucu Oh my God Wow Con l'arangione di cilinette Tu pure Oh bello Guarda, come stava cadendo Guarda, fumo, che fai? Minchiana città Oh, aspetta, 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 aspetta. E come è che fai? Fammi vedere? Di che cosa? Queste luci, aspetta, 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 aspetta è solo 500 ma che state come un anno? solamente con questo qui 10 cavalli e i cerchi pure solo con questo 10 cavalli? e con lo scorzare a terra? no sono 35 cavalli e allora li ho andato a fare pure io quasi quasi 35 e 35 ah perchè ce ne hai due vediamo c'è mai fame? vado vai vai che stai pensando? quindi traendo le conclusioni come? ma che stai facendo? ma secondo te chi calcolava? ma secondo te mi calcolava? secondo me si e ti vuole bene come sta andando sti incontro? bene benissimo come sempre ho rotto le palle con sti botti l'aspetto da te però eh? l'aspetto da te ok c'è un po' da che c'è conersi ma che tu lo chiedi? mi capite da sua amica ma ti mangi ora? si è un po' da c***o com'è? non piace ahahahah abbiamo terminato questa serata forse forse ah ancora voglio tornare a casa vabbè che dici lo concludiamo qua il video ah ancora no? ci facciamo una dormita? almeno tu si dobbiamo tornarmi anche tu come compagnia dormiamo? si allora allora chiudilo tu sto video saluto a tutti ragazzi e poi? e poi che? lo facete? no 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 non spero no buonanotte ragazzi buonanotte ahahahah